Oggi nel Real Bosco di Capodimonte, in questa meravigliosa giornata, abbiamo liberato un esemplare di Falco Pellegrino. Il Pellegrino è un rapace che appartiene alla Vifano italiana ed è definito un po' la Ferrari del cielo, in quanto proprio per le caratteristiche del suo volo ad alta velocità è la sua tecnica di predazione appunto in volo. Questo esemplare è stato ricoverato circa due mesi fa presso il nostro centro, dove è arrivato, dove arrivo con una frattura di metacarpo. Dopo la radiografia vedemmo che questo animale era stato addirittura probabilmente sparato, poiché da radiografia uscirono dei pallini da caccia e dopo circa due mesi di riabilitazione presso il nostro centro è stato possibile appunto reintrodurlo.